Il pallone colpa di testa fa la R.D. ha assecchiato la Roma AlbaViva giocata strepitoso Almaviva, fine foto, Almaviva, gol bellissimo per il vantaggio della Roma, un gol strepitoso da parte del numero 8 con la maglia numero 8 al quinto minuto, gol bellissimo e Roma in vantaggio, 2 a 0 che volta con la volta la firma di Cioffredi, 2 a 0 Roma. Dal dischetto va Almaviva che fa 1 a 0 per la Roma. Trova il gol con il destro di Sebastiano Cioffredi. Palla profonda, attenzione, Guglielmelli, Guglielmelli e c'è il contiere, Guglielmelli, il vantaggio, terzo minuto con Claudio, Issa, Guglielmelli. Ancora Guglielmelli, prova ad andare lui sempre con il gran fisico ma soprattutto con i grandi anticipi, palla dentro, attenzione, il tentativo di Ceccarelli per il 2 a 0 della Roma. Ancora Almaviva con l'esterno Ceccarelli, posizione regolare, ora potrebbe calciare Ceccarelli, palo gol, ma che gol del numero 10, segna ancora lui, ancora Andrea Ceccarelli. Che pazzesca giocata di Guglielmelli. Ed è 4 a 0 per la Roma al nono minuto del secondo tempo, sombrero di Guglielmelli che parte in posizione regolare sul lancio dalle retrovie. Da parte di Paolo Occi, eccolo qui, parte alle spalle di Rahman, poi lo supera in pallonetto, coscia e doppio sinistro. Prima il controllo e poi a giro sul secondo palo, vabbè che giocato.